A Terramal via a partire da oggi di importanti novità legate alla viabilità in centro storico. Questo perché in concomitanza dell'avvio dei lavori di ammodernamento della rete del gas l'amministrazione comunale ha deciso di invertire il senso di circolazione in via Cerulli Rally, una sperimentazione che durerà fino a metà marzo. Dunque ora a via I Rally si potrà accedere da via Mario Capuani, che come noto è sottoposta a regime di zona traffico limitato, e da via Nazerosauro, con un'unica uscita su circonvallazione ragusa. Come stabilito dall'ordinanza firmata dal sindaco. L'occasione dei lavori di rete gas abbiamo anche una sperimentazione che risponde a precise finalità, soprattutto affrontare il problema di via Vinci Guerra, che è una via sulla quale abbiamo ricevuto, rispetto alla quale abbiamo avuto tante sollecitazioni da parte dei residenti, perché è sovraccaricata sotto il profilo del traffico e quindi anche sotto l'aspetto ambientale. L'aspetto importante sarà l'inversione del senso di marcia su via Cerulli Rally, quindi sarà strutturata in questa fase sperimentale fino al 12 marzo in uscita, quindi non sarà tutto scaricato su via Vinci Guerra. Ovviamente siamo perfettamente consapevoli che questo potrà creare dei disagi in relazione alle famiglie che portano i loro figli alla scuola San Giorgio. Stiamo valutando di confrontarci con costruttori terramani per poter offrire un'opportunità anche con un parcheggio gratuito in alcune fasce orarie, quindi la mattina all'ingresso, all'orario scolastico di ingresso e poi di uscita, che può sicuramente facilitare la sosta delle famiglie, alleggerire il carico su via Cerulli Rally. Quindi tutto questo in via sperimentale, ma che risponde ad una prova, possiamo dire così, di carattere generale per la revisione del piano urbano del traffico in centro storico, che è ferma da troppi anni.